Se come me amate i gialli, la settimana enigmistica e siete un po' competitivi, questo è il libro che fa per voi. 100 pagine, durante le quali avvengono 6 omicidi. Il problema è che le pagine sono disposte completamente a caso. Sta quindi al lettore trovare il giusto ordine, trovare chi sono i colpevoli e chi sono le vittime. È un libro del 1934, riedito quest'anno da Mondadori. Nel 1934 solo tre persone sono riuscite a risolvere l'enigma. Mondadori mette a disposizione, mette in premio 500 euro a chi riuscirà a svelare il mistero. Quindi se volete mettervi in gioco, questo è il libro che fa per voi.